Esserci sempre, lo nostro slogan che rappresenta la nostra volontà, la nostra mission fondamentale che è quella di stare tra la gente, di lavorare per la gente e di sentirsi vicini alla gente. Aggregazione, condivisione ma soprattutto vicinanza alla cittadinanza è stato questo l'elemento fondamentale della cerimonia per il 166esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. L'evento che si è svolto al Teatro Petrarca di Arezzo ovviamente è stato anche l'occasione per tracciare un bilancio dell'attività della Polizia nella provincia di Arezzo. Vediamo una diminuzione generalizzata di tutti i reati, un aumento della produttività quindi sia in termini di arresti che di denuncia all'autorità giudiziaria ma non solo, anche l'attività di prevenzione generale. Faccio un esempio, noi abbiamo aumentato moltissimo i rimpatri con foglie di via obbligatorio e questo partendo da un assunto fondamentale che un determinato tipo di criminalità predatoria veniva da fuori provincia, questo magicamente ci ha fatto ridurre sensibilmente alcuni tipi di reati predatori. Un anno operativo intenso per la Polizia di Stato, 156 le persone arrestate, 837 invece quelle denunciate, sono stati inoltre sequestrati 100 kg di sostanza stupefacente ed infine 250 kg rami di tabacchi esteri di contrabbando. È uno stimolo per ancora di più far bene, intensificare ancora di più i servizi sia di controllo del territorio che specifici di repressione penale e aumentare lo studio per cercare di individuare quei luoghi e quelle parti del territorio particolarmente colpite dove appunto poi andare a prevedere e ad attuare le dovute misure. Ovviamente forte anche l'impegno per mantenere elevati gli standard di sicurezza in questo particolare momento storico. Purtroppo di questa emergenza terroristica che c'è in atto e che ancora non è, ci allerta e quindi ci pone la massima attenzione su ogni tipo di manifestazione pubblica, sia in termini di ordine di sicurezza pubblica sia in termini di attuazione di misure specifiche antiterrorismo per evitare e per far sì che ogni evento sia ordinato o pacifico e i cittadini possano viverlo nella maniera giusta.